Slitta lunedì 16 maggio la chiusura al traffico della durata di 40 giorni della galleria di piazza foraggi per completare i lavori di riqualificazione al suo interno. Lo ha stabilito la riunione tecnica di ieri in comune presente l'assessore lavori pubblici Elisa Lodi e la Trieste Trasporti che è impegnata a organizzare le deviazioni delle numerose linee di autobus che percorrono quotidianamente il tunnel di Montebello. Sarà inoltre istituito un servizio di bus navetta da piazza foraggi lungo viale d'annunzio sostitutivo delle linee deviate. Lo slittamento della chiusura di una settimana, ha spiegato l'assessore, è dovuto anche alle necessità di realizzare in largo pestalozzi una rotatoria temporanea per alleggerire il traffico lungo la via Molino a Vento, opera che, considerata la viabilità già complessa della zona, può essere realizzata solo in orario notturno e inizierà nel corso della prossima settimana. Sono inoltre necessari, prima di chiudere la galleria, alcuni interventi sulla segnaletica e la fresatura di alcuni marciapiedi per la svolta dei bus. Intanto, dall'altra parte della città, il tram di Opicina comincia a muovere i primi passi dopo l'installazione della nuova linea elettrica. Al termine degli ultimi lavori, Trieste Trasporti ha iniziato la movimentazione in vista della vera e propria ripresa dell'attività.